15... no, 15, 5... oggi quant'è? non mi ricordo quant'è oggi oggi è l'11, l'11 ottobre allora, sono Luca Cascello, giudicherò Davide Curione oggi è l'11 ottobre per il terzo voto dell'Italia Drown 2018 ok, guardiamo in stando magari l'11 c'è io va bene? si vai mi ha capito poi mi lanciare da 20 un quadro un bar da 10 un quadro questo un bar da 10 e apri il bambino non posso metto? un người il nostro un bar da 10 un bar da 12 un bar da in un bar da 10 un bar da 10 un bar da 10 un bar da 10 Grazie. 3, 2, 1, go! 3, 2, 1, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 3, 2, go! 4, 2, go! 4, 2, go! 5, 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 2, go! 6, 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 2, go! 7, 2, go! 7, 2, go! 8, 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 2, go! Sì Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop! Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì.